Sono sette le liste che sostengono la candidatura di Carlo Masci che da oggi parte in maniera ufficiale. Il candidato a sindaco del centrodestra a Pescara è sostenuto dai partiti che hanno fatto parte della coalizione che ha vinto in Regione Abruzzo, più due liste civiche. L'attuale consigliere comunale di Pescara si dice certo di poter centrare un risultato positivo magari già al primo turno. L'obiettivo è fare in modo che questa coalizione possa arrivare alla vittoria finale vincendo al primo turno ma con il grande rispetto dei cittadini, proponendo un programma serio, concreto, efficiente, fatto di grandi competenze, di grandi idee, di grandi passioni. Credo che questo obiettivo potrà essere raggiunto. Nei giorni scorsi ci sono state delle polemiche con la democrazia cristiana, tutto risolto? Ma io non mi sono accorto di queste polemiche, nel senso che io sto girando per la città, incontro persone entusiaste che non vedono l'ora di cambiare, un'amministrazione che ha ripiegato su se stessa questa città. Nel centro-sinistra Marinella Sclocco continua la sua opera di costruzione di una coalizione ampia sul modello mutuato, anche in questo caso, dalle scorse regionali dove Legnini è riuscito a piazzarsi al secondo posto scavalcando i Cinque Stelle. L'ex assessore regionale punta su giovani e un modello di città inclusiva. Ascoltiamo le sue parole in un estratto di Moby Dick che andrà in onda questa sera alle ore 21. È un modello nuovo, un modello per Pescara, per Pescara città, che certo si ispira a quello che è stato il modello Legnini, ma io sono un'altra persona, tra l'altro una persona molto autonoma, che vuole però ascoltare tutti, abbracciare tutti e non replicare, ma personalizzare perché chiaramente è diversa la partita rispetto alle regionali. Stiamo parlando di una città grande, una delle città più dinamiche d'Abruzzo, quindi è un modello che calza a pennello per questa occasione, che è un modello allargato. Certo, stiamo facendo diverse liste, sono liste di sinistra, ma anche liste civiche. C'è una lista anche del sindaco che vogliamo fare la più aperta possibile, anche un po' che rispecchia la mia storia. Il centrosinistra sarà orfano di Gianni Teodoro che, nonostante l'esperienza di governo nella giunta Alessandrini come assessore alla sicurezza, non ha condiviso la scelta di Marinella Sclocco. Ascoltiamo anche un passaggio da Moby Dick, dell'assessore comunale. Credo di aver dato molto alla città di Pescara, che ancora oggi mi viene riconosciuto. Non rinnego di aver sostenuto quel sindaco che in quel momento ha cercato di dare un impulso nuovo, un metodo nuovo alla politica locale. Poi però, al di là del sindaco, c'è il politico. Su questo, insomma, qualche riflessione in più. Nel mio tempo l'ho fatto e ritengo che se dovessi tornare indietro, io quello che ho fatto, allora non lo rifare mai più. Il Movimento 5 Stelle con Erika Alessandrini prosegue la sua campagna elettorale iniziata con largo anticipo rispetto agli avversari. La mancata votazione sul progetto di riqualificazione dell'area di risulta nell'ultimo Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle è una vittoria dopo aver lungo avversato le scelte strategiche della Giunta Alessandrini. Ascoltiamo anche Erika Alessandrini nell'estratto da Moby Dick. Sì, certamente abbiamo contrastato il progetto dell'area di risulta fin dal primo momento perché è stato un progetto che non abbiamo gradito come noi la città intera sia nel metodo con cui è stato portato avanti dal centro-sinistra sia proprio nel merito delle scelte che sono state proposte. L'idea che è stata portata avanti dal centro-sinistra ha completamente ignorato nel processo di formazione delle proposte la cittadinanza. Tra le civiche Carlo Costantini rischia di essere la vera sorpresa di queste elezioni amministrative. L'ex IDV punta tutto sul progetto Grande Pescara legato al referendum vittorioso del 2014 e soprattutto sull'essere lontano dai partiti tradizionali nonostante la lunga esperienza in politica. Al momento i candidati a sindaco a Pescara sono otto oltre ai sopracitati ci sono anche Gianluca Baldini per i sovranisti, Stefano Civitarese per Coalizione per Pescara e Mirko Iacomelli di Casa Pound.